Oggi il gruppo degli tibetani dell'America, del Nord America, ci incontriamo per fare questo incontro sul web, sono stato contento di ricevere la vostra richiesta, l'ho accettata molto volentieri, in più posso che c'è questa pandemia e anche il fatto che sono un po' anziano, a volte è difficile per me muovermi e andare molto lontano, per cui stando qui a Dharamsala e riuscire a fare, a dare insegnamenti e a connettermi con voi col web è una cosa semplice e pratica per me. Quindi voi tibetani del Nord America, oggi vi incontro sul web in questo modo. Noi tibetani, che cosa vuol dire la terra delle nevi, il Tibet? Prima di Son Zengampo, del re Son Zengampo, c'erano un po' di connessioni col mondo esterno, come i mongoli, solo a livello di nomadi, ma non a livello culturale. Poi con il re Son Zengampo, che era molto abile e intelligente e infatti sposò la regina, prese come regina la figlia dell'imperatore cinese e la figlia del re nepalese, per cui in quel momento si instaurò una connessione con la Cina, certa, però a volte lo dico certo. Son Zengampo, sposando la regina cinese, probabilmente gli piaceva il cibo cinese, ma per quanto riguarda la scrittura aveva considerato quella cinese troppo complicata, per cui sposò la principessa cinese e invitò lei assieme alla statua del Zhou Wu per cominciare il Dharma in Tibet, però che cosa disse? Cominciamo anche la nostra lingua scritta, ma non usando la Cina come base, ma utilizzando il metodo dell'alfabeto indiano sanscrito, con le vocali e le consonanti, gli alicali, e cominciò in quel modo. Poi in seguito col grande imperatore Trison Dezen, c'era già una grande connessione con la Cina che aveva lui, però per quanto riguarda il Dharma di Buddha si basò sull'India, non sulla Cina, per cui in quel momento i detentori del Dharma principali nel mondo erano il centro accademico Nalanda, per cui invitò il Labate Shantarakshita, che era il sommo dei saggi del Nalanda, e quando Shantarakshita arrivò in Tibet e disse a voi avete le lettere della vostra lingua tibetana, per cui non c'è bisogno di insegnare il Dharma in pali e in sanscrito, ma dovete tradurre tutti questi testi in tibetano. Sono alcuni conoscenti che mi hanno detto che Shantarakshita stesso imparò l'alfabeto tibetano. In pratica il fatto che abbiamo tradotto in tibetano dal sanscrito principalmente i testi degli insegnamenti, per cui cento volumi del Kangyur, duecento e più volumi del Tengyur, principalmente dal sanscrito e dal pali, per quanto riguarda le scritture del Vinaya, ma per quanto riguarda la visione filosofica e gli altri insegnamenti in relazione a questo, principalmente dalla tradizione sanscrita, in breve Shantarakshita disse che per sviluppare il Dharma in Tibet dobbiamo usare la tradizione del Nalanda. Shantarakshita stesso era un grande logico che aveva composto molti testi di logica che noi stessi oggigiorno possiamo studiare. Per cui lui stesso, il fondatore del Dharma in Tibet, poneva una gran enfasi sulla cognizione valida, per cui compose molti testi importanti di madiamica e di cognizione valida, per cui era un grande logico, e lui portò in Tibet il buddismo che poi si pagò in Tibet, esattamente come nella tradizione del Nalanda, dove studiano come soggetti accademici la cognizione valida e le visioni filosofiche. Per esempio, nel Din Naga, che ha composto il compendio di cognizione valida e anche Dharma Kirti, quei testi non sono stati tradotti nella raccolta dei testi buddhisti cinesi. Invece in Tibet noi li abbiamo tradotti subito, ma non solo li abbiamo tradotti, ma abbiamo studiato i testi di cognizione valida e logica, e in seguito, quando arrivò Manjujil Lama Tsongkapa, in Tibet divenne estremamente importante la tradizione dello studio e dell'apprendimento. Ed ecco perché abbiamo questi tre grandi monasteri, Serra Drepon e Ganden, che sono i fondamenti di tutto l'insegnamento, dove studiamo i cinque trattati fondamentali, per cui il trattato di cognizione valida, l'Abismaya Lankara, Madhyamika Vinaya e l'Abidharma. In breve, in questo mondo, la tradizione del Nalanda, che ha combinato le tradizioni filosofiche di Madhyamika e Chitamatra, solamente i tibetani, noi l'abbiamo mantenuto. Poi in seguito, questa tradizione da noi si propagò anche in Mongolia, con il Dalai Lama oniscente Sonanghiaz, che era il quarto Dalai Lama, e da lì ha ricevuto il nome Dalai Lama, con questa connessione speciale con i mongoli, e in moltissimi monasteri mongoli si cominciò la tradizione dello studio e dell'apprendimento, come abbiamo in Tibet del Nalanda. Per cui, guardando queste trasformazioni storiche, la tradizione del Nalanda, che si è gradualmente degenerata in India, quando la prima volta che arrivai in India per il pellegrinaggio, andai al Nalanda e ci sono solo rovine. Mi sembra che, quando arrivai al Nalanda, recitai il supplemento di Madhyamika di Chandrakirt, pensando appunto che in passato era un grandissimo centro di apprendimento completamente finito e distrutto, pensando in questo modo, noi tibetani che abbiamo mantenuto questa tradizione completa senza degenerarla, è veramente qualcosa che ti porta tanta gioia e confidenza in quello che abbiamo fatto. Da quel momento in cui Chandrakashita ci disse voi avete la vostra lingua, per cui dovete tradurre questi testi, ed è quello che successe, che abbiamo adesso. Per cui il Kanghyur, il Tenghyur, la raccolta di tutte queste scritture, degli insegnamenti di Buddha e dei commentari, non sono da tenere nell'altare per fare le offerte, ma la cosa principale è quella di leggerli, studiarli, impararli. Per cui i testi dei grandi maestri indiani diventano la radice del nostro apprendimento e della nostra pratica. Per cui noi da nomadi che accompagnavamo i mongoli a Pascolane, siamo arrivati a essere detentori di questa tradizione, ascoltando, riflettendo e meditando, tenendo queste tre saggezze insieme, ci siamo sviluppati in questo modo. Per cui il Buddha Dharma, per cui i tibetani della Terra delle Nevi hanno offerto un servizio incredibile al Buddha Dharma in questo pianeta. Per esempio, in Cina si era già propagato il Dharma principalmente, prima del Tibet, ma non avevano tradotto, non hanno ancora tradotto neanche adesso, i testi di cognizione valida. per cui io lo dico sempre, l'insegnamento di Buddha va analizzato con logica, non solo ascoltandolo e prendendolo per valido implicitamente. E' un po' quando parlo ai monaci della Thailandia, di Burma, gli dico voi non avete i denti, mentre invece noi tibetani, non importa quanto sia difficile il significato, lo analizziamo, lo investighiamo e andiamo a investigare, abbiamo investigato se quelle particolari insegnamenti di Buddha sono da accettare letteralmente o come significato interpretativo, per cui come il Buddha stesso ha detto, non seguitemi per mera fede, ma analizzate quello che insegno. Per cui il nostro maestro stesso ci ha detto così e noi abbiamo seguito esattamente in quel modo. Per cui in passato nella landa i grandi filosofi, i suoi discepoli, Chandrakirti, per noi sono i maestri principali e i testi principali che noi studiamo e pratichiamo sono i loro, per cui Abisamaya Lankara, Madiamika, eccetera, sono importantissimi. Per noi in Tibet per diventare geshi ci vogliono più di 20 anni di studio, 20-30 anni di studio e di applicazione memorizzando i testi radice e anche i commentari. Per esempio, da piccolo io ho memorizzato i testi radice di Madiamika e di Abisamaya Lankara anche alcuni passaggi del Trattato di Cognizione Valide e anche il testo radice di Abisamaya Lankara anche se quello non mi è stato troppo di grande beneficio e anche il Vinaya, per esempio c'è un insegnamento di Chandrakirti. passaggio del autocommentario del supplemento di Madiamika che dice il pensiero profondo della realtà ultima della vacuità va seguito sulla base di Nagarjun e dei suoi discepoli mentre invece di Naga e Dharmakirti erano dei grandi maestri ma si sono allontanati da questo profondo pensiero non l'hanno compreso loro hanno spiegato la ragione e il ragionamento e di come per cui noi tibetani abbiamo veramente agito in questo modo abbiamo tradotto tutti i testi di Kangyo e di Tengyo li abbiamo studiati e studiandoli principalmente fra questi i grandi maestri indiani per esempio per esempio di Naga e i suoi discepoli spiegarono principalmente la visione filosofica Chittamatra mentre invece in Tibet abbiamo per cui in Tibet abbiamo mantenuto la visione filosofica madiamica prasanghica come la principale io tutti i giorni costantemente rifletto su dei passaggi del supplemento di madiamica in trento come la visione di Naga in trento in trento in trento in trento Santità adesso sta di nuovo citando il supplemento di Madhyamika. Ci sono questi quattro. Ci sono le loro conseguenze, il fatto che si trovano nel supplemento di Madhyamika, che quanto riguarda se i fenomeni esistessero come un paio intensicamente esistenti, allora vorrebbe dire che l'analisi dell'essere aria sulla vacuità distruggerebbe la realtà. E se le cose avessero un'identità intrinseca, senza dipendenza da altri fattori, la realtà convenzionale dovrebbe sopportare un'analisi ultima. Il terzo è che se le cose avessero una natura intrinseca che sorge da cause, la produzione ultima non potrebbe essere negata. E il quarto è che gli insegnamenti di Buddha, che i fenomeni sono vuoti di natura intrinseca, sarebbero falsi. Comunque, il fatto che i fenomeni esistono come mera designazione del nome, se studiamo il supplemento di Madhyamika aggiungeremo delle certezze. E questo modo di pensare è il metodo supremo per confrontare l'ignoranza che si afferra alla vera esistenza. E principalmente, anche se sono presenti nel supplemento di Madhyamika, dovremmo, per quanto riguarda lo sviluppo di Bodhichitta, dovremmo basarci su Shantideva, sul Bodhisattva Acharya Vatara, e che le cui spiegazioni di Bodhichitta sono potentissime. Così come se non scambio la mia sofferenza e la mia felicità con quella degli altri, lasciamo stare l'ottenimento del stato di Buddha, ma neanche in questa vita sarò felice. Tutte le cose positive del mondo vengono dall'altruismo, quelle negative dall'egoismo. basta che guardi quegli esseri ordinari e i Buddha, qual è la loro differenza. Questi passaggi del Bodhisattva Acharya Vatara sono estremamente puntunti. Per cui, se non pratichi l'altruismo, lascia perdere l'ottenimento dello stato di Buddha, che è impossibile. Ma nemmeno, mentre sei vivo nel Samsara, potrai avere la minima felicità. Guardiamo un attimo, questa è una cosa che possano essere una realtà visibile nel mondo. Le persone che pensano solo a loro stessi, sia che siano politici, scienziati, eccetera, nel momento in cui sono completamente assorbiti solo dal pensiero egoistico, producono solo dei problemi. Anche nella Maceopa, dopo aver visto tutti i difetti dell'egoismo e i vantaggi dell'altruismo, ecco come il Bodhisattva Acharya Vatara è estremamente importante. Studiando e praticandolo fa diminuire la stretta dell'egoismo. Studiando invece il supplemento di Madiamica, diminuiremo l'afferrarsi alla vera esistenza. Oggigiorno anche la fisica quantistica, alcuni saggi fisici quantistici, dicono che afferrandosi ai fenomeni esterni così come appaiono, ecco che sorge attaccamento, ecco che ci si afferra, si pensa che esistono esattamente così come appaiono. Per cui dal punto di vista della fisica quantistica i fenomeni non esistono come appaiono. Così come appaiono, come appaiono, appaiono come oggettivamente esistenti, ma quando li andiamo a cercare non li troviamo, troviamo ciò che rimane è esclusivamente una mera designazione del nome. In passato c'era un grande scienziato americano, indiano, che mi ha detto che la fisica quantistica è qualcosa di nuovo in occidente, ma in India la fisica quantistica è già presente da più di duemila anni. Insomma lo disse, è vero, è completamente vero. E mentre mi disse così, recitò anche a memoria dei versi, delle strofe del fondamento della saggezza di Nagarjuna. Per cui avere compreso come i fenomeni esistono come mera designazione del pensiero e del nome è qualcosa di incredibile. Noi per più di mille anni abbiamo protetto e mantenuto questa tradizione. Per esempio io fin da piccolo ho memorizzato un po' di testi e anche della cognizione valida. Mi sono applicato anche nel dibattito, non come avrei dovuto. Poi Genpe Maghielze, uno dei miei maestri, che cosa mi disse? Sua santità, se avesse studiato i testi come li studiamo noi, semplici monici, sarebbe veramente stato incredibile. Per cui lui fu molto sincero nel dirmi così. Per cui io ho, anche se non ho, non mi sono sforzato così come fanno la maggior parte dei monaci che si sono nei monasteri, dei monaci semplici. Io non è che non abbia, non è che sia povero di apprendimento. Per cui anche il Dalai Lama fin da piccolo ha studiato queste cose. All'inizio, quando ero piccolino, non avevo troppo e ero più contento di giocare. E quando veniva a Lin Rinpoche a insegnarmi, aveva un piccolo frustino che se lo metteva sul tavolo quando mi insegnava. E con me c'era mio fratello, Zansant Samten. E per me, dal momento che io sono su Santità, il Dalai Lama, l'oniscente vittorioso, il frustino che aveva era giallo, rivestito di broccato giallo. Mentre invece quello per mio fratello no. Per cui mi veniva solamente mostrato quello quando andavo a studiare. Per cui d'estate veniva portato a Norbulinka, quando mi spostavo a studiare lì. E d'inverno invece veniva riportato con me al Potala. Per cui spinto dalla paura di ricevere, di essere sgridato, ho cominciato a studiare con Lin Rinpoche. Per cui in passato, in occidente, si parlava del buddismo tibetano come lamaismo, come se non fosse il vero buddismo. Poi piano piano siamo venuti in India, in esilio, abbiamo incontrato tanta gente, tante altre studiosi. Abbiamo riportato i testi con noi nei tre grandi monasteri. E adesso la gente capisce che questo non è il lamaismo, ma è la vera pura tradizione buddista del segnamento di Buddha del Nalanda, che incorpora lo studio e la pratica e che si basa sulla cognizione valida, sul ragionamento. Ecco perché anche gli scienziati sono interessati alla nostra tradizione. Io sono orgoglioso di questa cosa, del fatto che, dal momento che i scienziati si basano sulla logica e l'evidenza, e anche io ho studiato in questo modo, Per gli scienziati, solamente che qualcuno ha detto qualcosa, citare qualcuno, non serve, va analizzato la questione. E così facciamo anche noi. Noi studiamo analizzando, investigando. Per cui ho cominciato la mia connessione con gli scienziati, con la comunità scientifica in questo modo. E poi, piano piano, mi sono accorto che gli scienziati si occupano principalmente del mondo fisico, ma non della scienza della mente, che noi abbiamo. E questo è estremamente importante, perché nel momento in cui stai male mentalmente, solamente la fede e queste cose non bastano. Ma che cosa bisogna fare? Bisogna diminuire gli elementi che disturbano la mente e invece nutrire e sviluppare tutti quegli elementi che portano alla mente la felicità mentale. Per cui solamente prendere delle pillole, questo non avviene. Per cui ciò che porta disturbo nella mente, viene sulla base dell'afferrarsi a una realtà vera. Per cui viene in questo modo, per cui va contrastato a livello mentale. E in questo modo gli scienziati adesso hanno tantissimo interesse in questo. molti scienziati, io spesso dico l'igiene e la salute fisica nel mondo è praticata, ma che cos'è che disturba il mondo è la mente disturbata, per cui noi dovremmo avere la salute e l'igiene emotiva, mentale, che deriva dalla pratica della scienza della mente. Per cui molti scienziati hanno tanto interesse a questo. Per cui noi siamo arrivati in India col cappello della maismo, poi dopo abbiamo incontrato tanta gente in esilio in India, abbiamo incontrato gli scienziati eccetera e ci siamo liberati dal cappello della maismo, e abbiamo messo il cappello degli scienziati della scienza. Infatti a molti scienziati utilizziamo il fondamento del pensiero scientifico, per cui noi possiamo dire che abbiamo mantenuto ciò che è il tesoro, un tesoro per tutto il mondo. La scienza della mente non è qualcosa che si basa solo sulla fede e le preghiere, ma sull'analisi e l'investigazione. Per cui il Buddha Dharma che abbiamo mantenuto in Tibet con i Kangior, il Tengior, studiandolo e praticandolo e le varie spiegazioni che abbiamo noi, veramente questo è una ricchezza mondiale importantissima che abbiamo mantenuto noi tibetani. per cui l'abbiamo mantenuto per più di mille anni, abbiamo mantenuto la tradizione di questi studi e l'abbiamo mantenuto anche in esilio, non solo per noi, ma l'abbiamo anche propagato, siamo anche stati in grado di insegnarlo e spiegarlo al mondo. per cui noi tibetani, il popolo tibetano ha veramente ottenuto uno scopo veramente molto importante. Per cui il fatto che i tibetani hanno questa fede e hanno mantenuto il buddismo non si può dire che sia fede cieca. Perché? Perché è sostenuto da spiegazioni e ragionamenti. Per cui in generale la tradizione del Nalanda, infine veramente la tradizione dell'insegnamento di Buddha è una fede purissima, basata sulla logica. E questo è qualcosa di dominio pubblico che tutti possono vedere e comprendere. Poverini questi tibetani che hanno veramente una fede, hanno fatto uno sforzo incredibile per mantenere questa tradizione non con fede cieca, ma studiando, investigando, spiegando. Per cui questo è la cultura tibetana. Questo è l'importanza della cultura tibetana. Fino adesso anche in esilio siamo stati molto bravi per mantenerlo e dobbiamo continuare. Per cui la cultura tibetana del Dharma si basa su ragioni, necessità, evidenze. Per cui questa è... Per cui noi abbiamo servito a questa cultura tibetana per cui in questa stessa vita questa cultura porta felicità senza stare a parlare al futuro. Per cui nel mondo anche se uno non segue nessuna religione ci sono moltissimi che hanno interesse nella scienza della mente specialmente in Occidente la cui tradizione si basa su quella scientifica ci sono moltissimi che sono molto interessati al sistema filosofico che noi abbiamo mantenuto. Per cui noi tibetani che veniamo siamo una ricchezza per il mondo. A me quando andarono alla Molanzo e videro le tre lettere A, A, K, Ma per cui A, Hamdo K, 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 M, B Ma io pensandoci che cosa poteva essere ho pensato il mio nome si chiama da piccolo era Lamo Donru per cui c'è una profezia che dice quel bimbo che gli fu dato un nome femminile alla sua nascita per cui Lamo Donru per cui Ma che vuol dire è un significato di maschile femminile per cui io sono questo bimbo che sono venuto dal Tibet per portare per portare al mondo intero per cui ho per cui ho contribuito un pochettino a portare al mondo intero la tradizione del Nalande in questo mondo per cui noi in Tibet per prima cosa la nostra cultura per prima cosa è la lingua poi in questa lingua per esempio io dico no il Dharma deve essere studiato a livello accademico e quello che è presente nella lingua tibetana noi dobbiamo proteggerlo e mantenerlo sia che seguiamo la religione o che non la seguiamo la religione anche i tibetani che alcuni sono musulmani alcuni sono cristiani ciascuno può mantenere la propria fede però quando parliamo della cultura tibetana siamo tutti uguali nell'avere responsabilità di mantenerlo e di nel mondo intero per cui anche voi che siete negli Stati Uniti la cosa per cui siete in in posti la cui cultura religiosa è diversa ci sono musulmani cristiani eccetera per cui la tradizione secolare indiana è ottima che lascia la libertà individuale della propria fede a livello personale ma come ho detto così come io ho detto che la cultura tibetana è una un tesoro del mondo ecco perché i suoi soggetti dovranno essere studiati a livello accademico noi che siamo andati per prima cosa arrivati in India come in esilio io la prima cosa che dissi a Nero al pandinero gli disse di darci delle possibilità di stabilire delle scuole separate non integrarci nelle scuole indiane ma avere le nostre scuole tibetane per poter portare avanti la nostra lingua e per cui per cui questo è stato un grande una decisione estremamente di beneficio per cui abbiamo instaurato le scuole tibetane nei vari campi profughi per cui anche voi che siete in America adesso fate il possibile per interessarvi studiare e mantenere la tradizione della cultura tibetana come vi ho detto in passato quando arrivai a New York c'era una persona non mi ricordo che aveva ci disse che voi come rifugiati non siete arrivati solo come rifugiati ma avete la vostra tradizione virtuosa del buon cuore l'avete portato in occidente e spero che diventi un esempio per il mondo lui mi disse così per cui anche voi da una parte siete tibetani per cui la cultura tibetana principalmente basata sulla lingua tibetana dovete mantenerla e dovunque vi trovate dovunque vivete fate vedere date un esempio di serietà di sincerità di onestà e di buon cuore agli altri in modo da diventare un esempio per gli altri fate così per piacere per cui avevo desiderio di dirvi queste cose poi che cosa posso anche dirvi ecco basta per cui essere arrivati in America allora per me per tornare in America è un po' lontano un mio amico mi ha detto che mi avrebbe mandato un aereo privato per andare in America per fare in modo da non fare un volo diretto lunghissimo doveva fermarmi in vari posti prima di arrivare lì visto che è lontano mentre invece se parliamo adesso così sulla base dell'internet non ci sono questi problemi per cui per cui per cui voi anche se a parte l'odore del mio corpo che non potete sentirlo sull'internet però potete capire vedermi sentire le mie cose per cui è come se fossi lì per cui allora adesso vediamo che cosa facciamo prima delle domande e per prima cosa le 37 pratiche per cui Geshe Langrintampa praticò tantissimo Bodhicitta ed era sempre triste e piangeva ecco perché lo chiamavano Langda che piange per cui io questo lo recito lo recito lo recito molto spesso per cui per cui per cui la mente della compassione della pazienza ferma il karma che ti fa rinascere negli stadi inferiori per cui nel momento che è presente le condizioni le cause le condizioni complete meditando la mente dell'illuminazione ecco che questa mente dell'illuminazione è potentissima e ti porta all'illuminazione Chandrakirti all'inizio del supplemento di Madiamica che cosa dice fa il suo omaggio alla grande compassione perché è il seme che porta il raccolto dei vitoriosi è l'acqua che lo fa maturare e alla fine è il raccolto stesso delle qualità dell'illuminazione per cui fin dall'inizio dice mi prostro alla grande compassione che è la causa di tutti questi per cui la cosa fondamentale che cos'è il buon cuore per cui siamo agli otto versi mentali per cui per ottenere l'illuminazione la radice è la grande compassione la grande compassione che cos'è che osserva gli esseri senzienti che soffrono e la responsabilità il desiderio di liberarli dalle sofferenze poiché tutti gli esseri senzienti sono più preziosi del gioiello che soffrono dei desideri sendo intenzionato a realizzare lo scopo supremo possa sempre prendermi cura di loro poi ovunque con cuiunque mi trovi possa ritenermi inferiore a tutti e con sincera intenzione possa considerare gli altri come supremi per cui per cui non è una compassione che vede gli altri inferiori a se stessi ma una mente che vede come gli esseri senzienti sono il fondamento dell'ottenimento dell'illuminazione e li vede con grande rispetto questo tipo di compassione non come quando vediamo i poverini che diciamo come sono poverini e noi ci sentiamo un attimino superiori a loro non così ma veramente con rispetto una mente di affetto che rispetta gli altri posso sempre ritenermi inferiore a tutti con sincera intenzione poi considerare gli altri in ogni attività analizzarò la mente non appena sorgono emozioni distruttive poiché danneggiano messa sugli altri posso affrontare con determinazione e fermarli per cui in tutte le mie attività devo sempre mantenere osservare che cosa succede nel mio continuo mentale e se sorgono per cui per esempio nel sogno quando sorgono attaccamento e avversione durante la veglia se addestriamo la mente all'amore alla compassione alla pazienza anche nei sogni la mente che si rifiuta di accumulare negatività piano piano avviene anche nel sogno per cui quando vedo esseri di natura miserabile sopraffatti da forti negatività e sofferenza posso considerarli rari come un tesoro prezioso difficili da trovare in particolare in particolare gli esseri che soffrono quando li vediamo quando li incontriamo sono la nostra meditazione sulla compassione in particolare verso coloro a cui noi non piacciamo che sono contro di noi specialmente per loro dobbiamo generare una mente compassionevole nel Bodhisattva Charyatara che cosa dice Shantideva il nemico queste persone sono i nostri maestri spirituali perché se ci sono possiamo praticare la pazienza mentre invece con le persone vicine a noi possiamo solo generare attaccamento non pazienza abbiamo bisogno di qualcuno che ci causa problemi per meditare la pazienza per cui sono i nostri maestri spirituali come dice Shantideva nel Bodhisattva Charyatara per cui il maestro spirituale supremo è il nemico perché per sviluppare la mente dell'illuminazione è indispensabile avere la pazienza e per avere la pazienza va praticata con l'oggetto che ci disturba senza quello non si può praticare la pazienza per esempio non è che si pratica la pazienza con chi con chi ci offende con chi ci causa problemi non con chi ci ama come i nostri genitori per cui per cui la meditazione della pazienza avviene quando incontriamo chi ci disturba quando gli altri per invidia ingiustamente mi maltrattano con critiche calunni e altro posso accettare su di me la sconfitta e offrire agli altri la vittoria anche se qualcuno che ho aiutato in cui ho riposto grande speranza e mi danneggia le tue ingiustamente posso considerare un comprensoso amico virtuoso poi in breve posso offrire direttamente indirettamente beneficio e felicità tutte le madri posso generare segretamente prendere su di me tutti i problemi e le sofferenze delle madri questo parla della pratica del Tonglen le sofferenze degli altri che vengono dalle negatività si prendono su di noi tutte le virtù che abbiamo le diamo agli altri questo è dei bodhisattva coraggiosi con grande capacità intellettuale per cui non è una cosa semplice in breve posso offrire direttamente indirettamente benefici e felicità segretamente per cui la pratica del Tonglen prendere su di me tutti i problemi e sofferenze delle madri senza avere contaminato ciò con impurità della concezione degli otto dharma mondani questa è la meditazione della mente dell'illuminazione ultima della visione della vacuità con non aderirvi essere liberati da ogni legame per questo per la bodhicitta ultima la il fondamento della saggezza di Nagarjuna è il testo più importante per quanto riguarda la vacuità i maestri principali sono Nagarjuna e i suoi figli spirituali le spiegazioni che vengono da loro per cui a volte mi sento in questo modo penso io nelle nelle vite passate magari quando c'era Nagarjuna forse ero un ragazzino vicino a lui perché dopo aver studiato e pensato così tanto a Nagarjuna mi sento così vicino a lui per cui di sicuro c'è del karma e anche con Chandrakirti nel supplemento nel commentare il supplemento di Madiamika lo leggo sempre per cui mi sento vicino a lui comprendendo che tutti i fenomeni sono inusari Nagarjuna cosa dice tutti i fenomeni come vi ho detto prima se si investigano non esistono per niente a livello oggettivamente così come dice la fisica quantistica per cui cosa vuol dire che non esistono no esistono ma come come mera designazione del nome del nome nominale per cui tutti i fenomeni appaiono oggettivamente dalla loro parte e la mente e la mente si afferra a questa realtà come se fosse vero ma non è così perché se li ricerchiamo non la troviamo quella realtà per cui i fenomeni non esistono oggettivamente ma solamente come convenzione riconosciuta nel mondo per cui la visione prasanghica elimina completamente l'esistenza per proprie caratteristiche dicendo appunto che sono come mera designazione del nome del nome per cui appaiono oggettivamente a noi ma non esistono per niente nel momento in cui giungiamo alla certezza che non esistono per niente così comprendendo che tutti i fenomeni sono illusorie possono aderirvi essere liberati da ogni legame per cui queste otto strofe racchiudono le due menti dell'illuminazione quella convenzionale e quella ultima io da tantissimo tempo recito questi versi a memoria poi dove siamo adesso adesso andiamo alle 37 pratiche dei figli dei vittoriosi di Tongmesampo Muchu Tongmesampo Muchu è il nome del posto di ritiro dove lui risiedeva figlio dei vittoriosi era perché era riconosciuto già allora quando era vivo come un bodhisattva non figlio dei vittoriosi perché era un principe per cui Tongmesampo era il suo nome proprio ricevuto alla nascita era allo stesso tempo di rinpoce 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 a un certo punto aveva male a un braccio e gli disse a Tongmesampo tu sei un bodhisattva soffiami sul braccio che mi fa male per cui per cui per cui Tomesampo il figlio dei vittoriosi era veramente un essere inconcepibile di qualità e un suo scritto che è questo le 37 pratiche dei figli dei vittoriosi per cui la pratica dei bodhisattva e le pratiche dei bodhisattva sono racchiusi in queste 37 stroffe per cui le 37 pratiche dei figli dei vittoriosi prende il suo nome in questo modo per cui come Lanrin Tampa pensando alla bodhicitta prendendo su di sé le sofferenze degli altri ecco che piangeva per cui essere di beneficio agli altri è solamente fare delle preghiere non è sufficiente per cui per cui ho composto questo testo Namolok Gurulokishwara benché con ciò vedi che tutti i fenomeni privi di andare e venire agisce esclusivamente per il beneficio del simigratore Supremo Lama Salvatore Cianresi con rispetto mi prosto sempre con le tre porte come nel verso iniziale del fondamento della saggenza che parla del sorgere dipendente libero dagli otto estremi per cui dal punto di vista della saggenza tutti i fenomeni sono come una mera designazione del mente non esistono per niente come appaiono nella nostra mente per cui questa è per cui dice benché veni tutti i fenomeni per andare e venire hai completamente realizzato questo ma continui esclusivamente il beneficio degli esseri i buddhi completi che sono sorgenti dei benefici dell'efficità sorgono dall'aver praticato il dharma ma è puro che a sua volta deriva dalla conoscenza di come si pratica spiegherò pertanto le pratiche dei figli vittoriosi adesso che hai ottenuto il raro e grande vascello di libertà e di fortuna difficile da ottenere per liberare te stesso dall'oceano l'esistenza ascoltare riflettere meditare giorno e notte senza distrazione la pratica dei figli dei vittoriosi per cui quando educhiamo il nostro pensiero fino a avere esperienza anche questo sarà presente anche nel sogno e questo mostra l'impronta e non solo a volte sembra che le cose che pensiamo di significati difficili vengono comprese durante il sonno il sogno perché la mente del sogno è più sottile di quella della veglia dove funzionano principalmente le coscienze sensoriali che sono ferme durante il sogno per cui c'è solo la coscienza mentale che ha più capacità di comprensione a me a volte succede questo non sempre a me a volte Per cui ascoltare, riflettere e meditare giornalmente senza sensazione la pratica dei figli vittoriosi. Per esempio noi, quando siamo con gli altri, eccetera, per cui l'attaccamento per i propri cari scorre come l'acqua, l'odio per i nemici brucia come il fuoco, il buio dell'ignoranza dimentica la pratica e l'abbandono, lasciare la propria eternità e la pratica dei figli dei vittoriosi. Lasciando i luoghi negativi, le emozioni distruttive gradualmente diminuiscono, senza sensazione la pratica del virtù aumenta da sé, usando l'intelligenza, la certezza del Dhanfi, poi l'impermanenza ci separa da ciascuno dei parenti e dei cari amici di lunga data, le ricchezze e i beni accumulati con grande sforzo vengono lasciati, la coscienza ospite abbandonano alla casa del corpo, pronunciare a questa vita e alla pratica dei figli dei vittoriosi. Non pensare solo a questa vita, anche il corpo lo dovrai abbandonare, per cui alla fine di questa vita solamente le impronte positive e negative delle azioni rimangono nella mente che parte, per cui queste impronte, queste potenzialità positive e negative che portano le varie esperienze nel futuro. Se le compagnie fanno aumentare i tre veleni, degenerano le attività ascolta, riflessione e meditazione, annientano l'amore e la compassione, l'abbandono delle cattive amicizie e la pratica dei figli dei vittoriosi. Se mi affido a lui, i difetti vengono rimosse, le buone qualità aumentano come la luna crescente, così era il problema del vittorioso, come il più caro, il più prezioso del corpo, è la pratica dei figli dei vittoriosi, poiché essa è legata alla ragione del samsara, che potrebbe mai proteggere una divinità mondana. Per cui i vari spiriti eccetera eccetera che vengono propiziati solamente per degli obiettivi limitati, ma non come rifugio. Quindi prendere rifugio nei rari e supremi che non ingannano la pratica dei figli dei vittoriosi, le sofferenze legative, la trasmigrazione è così difficile da sopportare, il capace ha detto che sono il frutto delle azioni negative, quindi non commettere azioni negative è una cosa della vita, è la pratica dei figli dei vittoriosi. Per cui se hai altruismo, questo avviene. se invece hai gelosia, rabbia, danneggi gli altri e in questo modo accumuli potenzialità negative che non solo ti portano a sofferenze in questa vita, ma le sperimenterai nelle prossime vite. Poi per il migliore scopo intermedio, le felicità delle tre esistenze come una goccia di rugiata sulla punta del filoderma, è un fenomeno che perisce in un meno istante, quindi la ricerca di soprenostare, non mutare le liberazioni, la pratica dei vittoriosi. Poi il migliore scopo superiore, se le madri che da tempo senza inizio mi hanno amato, stanno soffrendo, come posso essere felice? Quindi per liberare gli innumereboli esseri senzienti, far sorgere la mente dell'illuminazione e la pratica dei vittoriosi. Tutte le sofferenze sorgono nel desiderare la propria felicità, mentre i Buddha completi nascono dalla mente altruistica, quindi scambiare perfettamente la propria felicità e la sofferenza con gli altri e la pratica dei figli di vittoriosi. Per cui pensando ai difetti dell'egoismo e ai vantaggi dell'altruismo, ecco che si pratica eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, principalmente basandosi sulle spiegazioni del Bodhisattu Acharya Vattara, che è molto importante. Strofa 12, anche se qualcuno mostra un grande desiderio, mi ruba tutte le richieste, fai in modo che vengono rubate, dedicare a costruire il proprio corpo, risorse e virtù dei tempi, la pratica dei figli dei vittoriosi. Strofa 13, adesso. C'è una storia per la strofa 12, in un momento in cui Tongme Sampo era andato a insegnare in alcuni luoghi e aveva ricevuto tante offerte, poi dopo si incaminò per andare in un altro posto e dovete attraversare un posto dove c'erano problemi di ladri e banditi e incontrò questi banditi e gli diede tutto, volentieri, tutto quello che aveva, ma non solo, gli indicò di non andare nella direzione dove erano diretti perché avrebbero incontrato coloro che avevano fatto i doni a Tongme Sampo e avrebbero riconosciuto queste cose per cui per proteggerli li mandò da un'altra parte, proteggere i ladri che gli rubarono tutto, anche se non ho la benché minima colpa e vogliono perfino tagliarmi la testa, spinto da compassione e prendere su di me queste negavità e la pratica dei figli dei vittoriosi. Per cui anche se mi vogliono uccidere, non arrabbiarsi, non avere odio per loro, ma prendere su noi stessi le loro menti negative e dannose è la pratica dei figli dei vittoriosi. Anche se qualcuno mi calunni in veri modi nei migliaia di universi con una mente amorevole esprimere le buone qualità di quella persona è la pratica dei figli dei vittoriosi. Se qualcuno nel mezzo di una folla rivelasse i miei difetti comparerò le lavaggi e considerare costruito come un maestro vittorioso anche in assolutamente è la pratica dei figli dei vittoriosi. Anche se colui che ho accaduto come un figlio mi considero come un nemico come la madre per il figlio del malanto ha anche avuto un effetto speciale la pratica dei figli dei vittoriosi. Anche se un essere a me è uguale o inferiore in periodo dell'orgoglio mi insuta e mi aggredisce con rispetto come per il lama porrò sulla cima del capo e la pratica dei figli dei vittoriosi. Quando pratichiamo il Dharma anche se sono privo di mezzo di sostegno e continuamente spessare gli altri figli da malattie gravi da demoni per esempio senza scoraggiarmi la pratica dei vittoriosi per cui quando abbiamo tanti problemi è importante non abbandonare la mente dell'illuminazione o è anche quando abbiamo troppo successo per esempio la strofa 19 anche se sono famosi è rispettato da molti e anche se possiede ricchezza pare quelle di Vaishravana vedendo le ricchezze samsara non hanno essenza non essere arroganti è la pratica dei figli dei vittoriosi per cui quando stiamo attraversando dei problemi dobbiamo fare in modo di non degenerare la pratica della mente dell'illuminazione quando abbiamo tantissimo successo fama eccetera ecco che è pericolo c'è il pericolo di abbandonare la mente dell'illuminazione per cui in quel momento dobbiamo praticare specialmente se non pacifico il nemico l'odio che è in me i nemici esterni scoffeggiano aumenteranno quindi con gli eserciti dell'amore della compassione domani però continuano la parte dei figli dei vittoriosi le qualità del desiderio come l'acqua salata più si usano più crescono il desiderio abbandonano immediatamente le cose che generano l'attaccamento alla parte dei figli dei vittoriosi il modo in cui tutto appare alla mente la mente stessa è libera sin dall'inizio degli estremi dell'elaborazione con questa comprensione per cui questa è la meditazione con questa comprensione non applicare la mente i segni di precipita e precipente è la pratica dei figli dei vittoriosi questa è la pratica della mente dell'illuminazione ultima lui aveva Tomesampo aveva molta propensione credo mi viene da capire da queste strofe per la visione città matri perché dice il modo in cui tutto appare alla mente la mente stessa è libera sin dall'inizio dagli estremi dell'elaborazione per cui se fosse un Madiamaica spiegherebbero questo verso in questo modo i fenomeni esterni esterni e interni esperienze interne e esterne appaiono come oggettivamente esistenti ma non esistono per niente in quel modo se esistessero così dovrebbero essere trovate ricercandolo invece non è così per cui tutto appare solamente alla mente è designato dalla mente direbbero in Madiamaica e andando a analizzare la mente stessa è solamente un continuo di momenti non come appare noi come mente oggettiva la mente stessa è libera sin dall'inizio degli estremi delle liberazioni per cui i fenomeni oggettivi e quelli soggettivi appaiono oggettivamente ma non esistono per niente così quando si incontrano oggetti attraenti come un arcobalino estivo anche se appaiono belli guardali come noveno abbandonare l'allercamento che afferano la parte dei figli vittoriosi numerose sofferenze sono come il solo del figlio che muore concepirle come vere queste allucinazioni è la causa di grande angoscia quindi quando si incontrano con sione avesse vedere come allucinano la parte di vittoriosi adesso la pratica di 6 perfezioni strofa 25 adesso la 26 senza prima era la genosità senza la moralità non si ottiene il proprio beneficio farà risare quello far ridere quindi praticare la moralità senza interessi al samsara e la pratica dei figli dei vittoriosi per il figlio dei vittoriosi che desidera usufruire delle virtù tutti coloro che lo danneggiano sono come un tesoro di gioielli quindi senza provare odio per nessuno meditare la pazienza tra i partici di vittoriosi si vede che anche gli uditori e gli uditori conseguono solo il proprio scopo e servono come se dovessero domare un fuoco sulla cima del loro capo e il beneficio di essere perché lo sforzo verso la sorgente tutte le buone qualità le pratiche vittoriosi strofa 29 per cui per quanto riguarda la shamata e vipassana in particolare che ha come oggetto la visione della realtà ultima senza vedere i propri errori anche se le sembianze sono quelle parenti è possibile che non sia da perciò abbandonare la pratica dei figli dei vittoriosi strofa 31 32 se spinto dalle emozioni distruttive parlo dei difetti di un altro buddistato questo mi fa degenerare quindi non parare delle persone che sono entrate nel grano vittorio discutere per acquisire ricchezza e onore fa deteriorare le attività di ascolto riflessione meditazione abbandonare l'attaccamento per i possedimenti dei cari amici benefattori le parole dure turbano la mente altrui e degenerano le attività dei figli dei vittoriosi a causa della familiarità con le emozioni distruttive difficili con sali e con gli antidi quindi con memoria e disspezione impugnando l'arma dell'antidolo appena solgono l'attaccamento dalle emozioni distruttive attaccare e sconfiggere la pratica dei figli dei vittoriosi in breve qualunque sia l'attività che si sta svolgendo controllando lo stato della mente in quel momento con continua memoria e disspezione compie il bene altru della pratica dei figli dei vittoriosi quindi l'ultimo quindi le virtù accumulate con questo sforzo per eliminare le sofferenze di infiniti essi tramite le saggezze delle tre sfere pure dedicare all'illuminazione e la pratica dei figli dei vittoriosi in accordi significati spiegati nei sud né tanti né trattati nel seguito dell'istruzione di essere pure composto da sette appare dei figli dei vittoriosi per il beneficio di cui si desiderano addestrarsi nel sentiero dei figli dei vittoriosi poiché la mia intelligenza e il mio testamento sono limitati questi vesti non delizieranno gli studi o nel caso perché se vanno sfruttate le parole degli esseri santi penso che essere rappresentato la pratica dei figli dei vittoriosi tuttavia per una persona con una mente inferiore come la mia è difficile penetrare alla profonda dà delle grandi azioni di azioni vittorie perciò per gli esseri puri di perdonare i miei moltiplici errori di contraddizione mancanza di attinenza e così via per le virtù che sono solo possono i migratori grazie alla mente dell'illuminazione di un'ultimo di morale e del sistema di un'istruzione del pazzo diventare come conservatore di Avelokiteshwar questa espressione sta composta dal monotome Sampa credo che sia questo testo mio venga da una pubblicazione fatta da Lazzorimpo che ha delle parole di colofone che sono presenti nel testo di sua santità che viene dal tibet ma noi non l'abbiamo. Io ero a Dharamsala già quando Lazo Rinpoche mi mandò questo testo che lo fece pubblicare lui in Tibet per cui questo testo lo considero veramente di grandissimo beneficio e l'ho ricevuto alla trasmissione la spiegazione da Kunulama Rinpoche. Per cui ci sono delle domande? Da New York un studente di medicina, Tenzin Sampo, dice come studente di medicina ho incontrato molti pazienti con malattie che non possono essere curate, sono privi di speranze emozionalmente sofferenti, come possono aiutare questi pazienti? No non. Per cui anche se sono solamente uno studente di medicina in futuro, quando sarò un dottore incontrerò questi pazienti e voglio essere certo di essere in grado di essere di beneficio a queste persone quando le incontrerò, anche come adesso. Per cui in più ti richiedo di vivere a lungo per il beneficio del mondo e di tutti noi. Studiare medicina e anche infermerie è estremamente importante. Per cui la scienza medica è estremamente importante per essere di beneficio agli altri. Per cui è ottimo che stai studiando medicina. Quando pratichi la medicina, è possibile che ci siano dei pazienti che non guariscono con i trattamenti medici. Nel Bodhisattva Charevatara che cosa dice? Se qualcosa può essere fatto è inutile preoccuparsi. Se qualcosa non può essere cambiato è inutile preoccuparsi. Per cui nel momento in cui provi, applichi i metodi e vedi che non è possibile guarire, non c'è niente da fare. È inutile rimanere con una mente sofferente e claustrofobica. Non c'è niente da fare. Così come quando meditiamo la mente l'impermanenza. L'impermanenza che dice anche se la morte è certa. Nel momento in cui stai morendo non c'è niente da fare. Morirai. Per cui non c'è nessuno che può intervenire per fermare quella cosa. Per cui nel momento in cui ci sono delle malattie incurabili, dove non c'è niente da fare, la cosa importante è non preoccuparsi, non avere una mente preoccupata. Noi siamo buddhisti, per esempio, anche i cristiani. Gli hindus e i buddhisti dicono che esiste l'atma, che è il sé diverso dagli aggregati. I buddhisti dicono che non esiste. Per cui diciamo che sé, io, è disegnato in indipendenza del corpo. Per cui gli hindus e dicono che quando muori abbandoni questo corpo, ma c'è la vita futura. Chi va nella vita futura è questo atma, questo sé diverso dagli aggregati. Mentre invece nei buddhisti dicono che non esiste un tale sé diverso dagli aggregati. Ma la persona dov'è che è disegnata? È disegnata principalmente sulla indipendenza del continuo mentale, che ha vari livelli grossolani e sottili. La mente è estremamente sottile, esiste da tempo senza inizio e non ha fine. E' quella che procede allo stato di Buddha. Quindi quando stiamo morendo, la morte è un cambio del corpo. Ma il sé continua. Per cui sia nel modo in cui è spiegato dagli hindus, sia nel modo in cui è spiegato dai buddhisti, questo sé rimane sempre. Per cui anche nel momento in cui si muore, ecco che dove procede questo sé nella vita futura. I musulmani credono in un Dio creatore che quando muori ti affidi a Lui. Per cui quello è un momento in cui hai provato tutti i medici, tutte le medicine e tutte le possibilità e non c'è niente da fare, vuol dire che non c'è niente da fare e rimani con una mente tranquilla. Non solo se pensi alle vite future, se sei buddista, devi pensare alle vite future. Queste preghiere che noi facciamo, possa io in tutte le vite future inseparabili dal maestro perfetto e completando tutti gli stadi e sentieri, possa al più presto ottenere lo stato di Vajaradara per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. In quel momento invece di deprimersi, pensare in questo modo è di beneficio. Per cui... Per cui... Per cui mi sento molto fortunato poterti chiedere una cosa. Nelle 37 pratiche... Qual è la differenza tra la responsabilità universale nelle sette tecniche di causa-effetto e eguagliare se stesse con gli altri? Allora, dal punto di vista ordinario siamo esseri umani, no? Per cui siamo esseri sociali, animali sociali. Dipendiamo dagli altri, dalla comunità. Anche alcuni scienziati spiegano questa cosa. Noi siamo animali sociali, per cui nel momento in cui nasciamo dipendiamo, la nostra vita dipende da quelli che sono attorno a noi. Poi mentre cresciamo, anche i nostri mezzi di sostentamento, perfino il cibo e le cose importanti dipendono, dipendiamo dagli altri, vengono dagli altri. Per cui la mia sopravvivenza dipende dagli altri, in particolare noi esseri umani di questo pianeta. E se noi smettiamo di pensare agli altri, che sono la base del nostro sostentamento, pensiamo solo a noi stessi, andiamo completamente contro la realtà. Invece, se facciamo il possibile per essere di beneficio agli altri, dai quali dipendiamo, anche dal punto di vista generale del mondo, per esempio noi tibetani, la nostra sopravvivenza dipende dalla società asiatica. La società asiatica è una dei componenti del mondo, per cui noi parliamo di tutti gli esseri essenzienti, anche quelli della forma e non forma, però guardiamo direttamente quelli che noi vediamo, dove siamo gli altri, i nostri simili, dai quali dipendiamo, la nostra vita dipende. Ecco perché nel 37 pratica del Bodhisattu dice che hanno avuto questi esseri senzienti, che hanno avuto affetto per me da tempo senza inizio, che abbiano avuto affetto diretto o no, non importa, è il punto fondamentale che la nostra sopravvivenza è sempre dipesa da loro, proprio perché siamo degli animali sociali, per cui a livello personale, dovunque noi siamo, l'ambiente dove siamo, noi dipendiamo dall'ambiente, dagli esseri di quell'ambiente dove siamo, dovunque ci troviamo. Per cui lo dico sempre, l'unità di 7 miliardi di esseri umani, tutti uguali, che vogliamo essere felici, e non vogliamo soffrire nello stesso modo, per cui essere di beneficio a loro, avere affetto per loro, è in accordo con la realtà evidente. E questo porta felicità fisica e mentale in chi lo pratica. Poi c'è la terza domanda, è un avvocato dell'immigrazione in Minnesota. Noi siamo stati molto fortunati a essere in esilio, e abbiamo avuto tanta esposizione a te, ai tuoi insegnamenti e a vederti, e questo non è la fortuna dei tibetani che purtroppo sono rimasti in Tibet, ma che rimangono con una fede indistruttibile. Per cui come possiamo, dacci un consiglio di come noi tibetani in esilio possiamo mantenere la nostra cultura. Ora, sempre dico che non ho più le responsabilità politiche, ho rinunciato a quelle. Io mi occupo di, uno dei miei impegni è quello di mantenere e proteggere la cultura e l'ambiente tibetano, del Tibet, per cui io lo so che tutti i tibetani in Tibet hanno una fede indistruttibile in me. Per cui io so, sono consapevole che sono sempre e costantemente una fonte di speranza per loro. Prima ti ho spiegato quello che dobbiamo fare per mantenere la cultura tibetana, che è effettivamente una ricchezza di tutto il mondo, questo l'ho già spiegato, per cui la cultura tibetana è una di quelle culture che è veramente di beneficio al mondo. E questo, noi dobbiamo essere orgogliosi di questo come tibetani. Siamo esiliati, abbiamo perso il nostro terra, ma non dobbiamo scoraggiarci perché abbiamo la nostra cultura profonda che può essere di beneficio a tutti gli esseri, a tutto il pianeta. Noi dobbiamo avere questo orgoglio e questa confidenza. Se porti avanti in questo modo, io adesso sono già anziano, ho 85-86 anni, per cui io prego e ho anche intenzione di vivere più di 100 anni, ma ti garantisco che per me, avere tutto questo, mantenere la cultura tibetana è stato di grande beneficio. E insieme a questo, noi dobbiamo presentare il buddismo a livello scientifico e anche in alcune università cinesi si spiega il buddismo. Comunque hanno letto dei miei libri e hanno compreso molti di loro che il buddismo tibetano in realtà è un'investigazione scientifica. Per cui noi tibetani, questi tibetani in Tibet, hanno mantenuto fortissimo la loro, e anche in esilio, mantenuto la loro cultura, nonostante le difficoltà e le sofferenze incredibili, per cui questo è presente molto forte in Tibet, per cui noi come popolo tibetano abbiamo la nostra lingua, che è la più profonda per quanto riguarda la spiegazione del Dharma e che diventa anche la cultura stessa nostra, questa è la vita della nostra cultura. Per cui la cosa più importante è la lingua, mantenere la nostra lingua, poi sia che siamo buddisti o non buddisti, sia che abbiamo fede nel Dharma o no, non importa. La cosa importante è che la nostra tradizione della scienza della mente, della filosofia che viene dalla tradizione dell'Alanda in India, è estremamente importante ed è il nostro compito quello di mantenerla. come vedete, in passato si parlavano di lamaismo, pensando solamente che la pratica erano dei rituali e cose di questo tipo, mentre adesso invece viene riconosciuto come scienza della mente, per cui è il nostro motivo di orgoglio questo. Da San Francisco adesso? Qual è il consiglio più importante che dà ai tibetani per mantenere, da tenere a mente costantemente come servire al meglio la nostra comunità? Per esempio, noi siamo rivenuti in India, anche se non è il Tibet, ma abbiamo mantenuto anche in India la nostra cultura, e il buddismo della tradizione tibetana. Anche voi, dovunque siate nel mondo, sulla base della propria lingua tibetana, sia dal punto di vista filosofico, sia dal punto di vista della logica, noi in Tibet noi siamo pronti a incontrare e a discutere con chiunque, proprio a caso di questo, per cui dobbiamo proteggere e sostenere questa cultura, perché è di beneficio alla persona che lo fa e anche alla società. per cui questo dobbiamo mantenerlo di generazione in generazione, ok? Pensa così. Poi da Portland, uno studente, la mia domanda è come tibetano-americano, ho visto competitività che è prominente nella cultura occidentale e che porta stress. Che consiglio puoi dare agli individui per affrontare lo stress con successo? La competizione è di due tipi. C'è una competizione che pensa io voglio arrivare primo e devo fare in modo che gli altri non ottengano i miei risultati. Quel tipo di competizione è sbagliato. pensare invece di ottenere dei grandi livelli di successi nello studio, nella pratica e con l'obiettivo di essere di beneficio agli altri, di essere esempio agli altri. Questo tipo di mente competitiva va bene. Per esempio anche noi nei monasteri quando andiamo a debattere in quel momento anche se in quel momento abbiamo intensità e competitività per essere di beneficio non per danneggiare. Per cui la competizione in sé non è una cosa negativa. il poter raggiungere a dei grandi livelli di studio, di apprendimento in modo da poter ispirare e offrire esempio agli altri per cui è importante, è necessario e va bene. Grazie a tutti. Non so, non m'hanno mandato questa domanda. Provo a vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha qualcosa che a vedere con l'eguaglianza sociale dei generi. In generale i tibetani, il tibetano ha come natura il buon cuore, l'amore, la compassione. l'amore della madre è molto potente perché è in grado anche di nutrire con latte. Per esempio, io con mio padre ero molto vicino, ma non così vicino con tanto affetto come per la madre, per mia madre, per cui i tibetani hanno forte questa cosa dentro. per esempio, per esempio, al premier finlandese, che è una donna, io credo che parli della Nuova Zelanda, però, quando ho ottenuto il suo posto gli ho mandato le mie congratulazioni, per cui sembra che adesso le donne stiano uscendo dalla società in un modo potente nella storia, quando parliamo di eroi, sono sempre uomini e sono eroi perché uccidono. La maggior parte degli eroi erano maschi, no? Perché erano eroi perché uccidevano gli altri. Perché? Perché la natura della donna è più compassionevole. Io penso così. A scuola non ci sono soggetti scolastici che insegnano l'importanza dell'amore e della compassione. ma anche la scienza spiega come questo tipo di emotività è di beneficio alla salute fisica e mentale, per cui dovrebbe essere inserito nell'istruzione fin da piccoli quando andiamo a scuola, quando abbiamo cinque, sei anni i bimbi che vanno a scuola. i bambini piccolini non parlano, non vedono gli altri con differenze. Questo è la mia nazione, quelli sono di un'altra nazione, queste sono la mia razza, un'altra razza. Queste cose arrivano quando vanno a scuola dove non si insegna l'importanza dell'amore e della compassione. Prima il povero, ricco, questa religione, quell'altra religione, questa razza, questa razza, i bambini piccoli non hanno queste concezioni, queste differenze arrivano nel momento in cui entrano nel sistema educativo, per cui nell'educazione secolare l'amore e la compassione va inserito sulla base delle conoscenze scientifiche, come una materia scientifica. noi per esempio tibetani in esilio siamo arrivati, siamo una minorità in India ma abbiamo le scuole, studiamo, abbiamo portato avanti la nostra cultura nell'India, in India noi tibetani anche se siamo una grande, siamo una minoranza siamo diventati una presenza evidente nello stesso modo voi che siete in America adesso siete abbastanza alcune decine di migliaia per cui incontratevi anche a livello virtuale e sulla base di incontrarvi discutete di come noi come società tibetana tibetani mantenendo la nostra identità la nostra cultura che è causa di grande orgoglio positivo per noi per esempio anche nella comunità scientifica è interessata alle nostre visioni filosofiche la nostra cultura non è forse una non è forse bello questo per noi pensarlo è bello è dobbiamo sentirci orgogliosi di questo e questo orgoglio è principalmente diretto o indipendenza sulla sulla base del fatto che siamo un popolo che tiene come importante l'amore la compassione la saggenza e considerando come tutti gli altri esseri umani sono siamo la stessa famiglia cerchiamo di essere di beneficio loro mantenendo la nostra cultura con orgoglio positivo per cui tieni a mente queste cose ok poi qual è la prossima domanda questa è da New York Serin Dechen che dice questo questo anno è cominciato con con i fuochi in Australia che hanno ucciso milioni di animali e poi con il covid le famiglie si separano l'economia è degenerata e ha fatto anche apprezzare questa pausa diciamo col covid la gente comincia a apprezzare cose che di solito non lo facevo per quelli che come me stanno combattendo questa pandemia come pensi che dovremmo pensare su ciò che è successo quest'anno come è successo che tutti così tante persone vengono coinvolte in un'esperienza di questo tipo per cui c'è la felicità l'esperienza di felicità di sofferenza individuale quella della società per esempio la pandemia ha preso tutto il mondo anche in India è forte anche in America è fortissima in più i fuochi eccetera vengono dal cambiamento degli elementi il riscaldamento globale per cui essendoci la terra sorriscaldata ecco che in Brasile Australia eccetera ecco che ci sono tutti questi fuochi e moltissimi esseri muoiono la loro esperienza è la maturazione del loro karma e non c'è niente da fare per questo la pandemia anche viene a livello sociale che prende tutta la città ci sono molti scienziati molti medici che stanno cercando i vaccini e io gioisco di questa cosa è veramente fantastica in particolare questi dottori dottori per cui a livello sociale c'è il karma collettivo un karma collettivo che quando avviene non c'è niente da fare il punto è che quando affrontiamo queste situazioni come la pandemia non dobbiamo scoraggiarci perché lo scoraggiamento diventa un'altra condizione per per peggiorare questa situazione e la malattia stessa invece dovremo avere confidenza di superare questa situazione allora è di beneficio anche ad affrontare la malattia se perdiamo il coraggio anche il corpo ha un effetto sul corpo che si indebolisce per cui è più facile ammalarsi per cui avere una forte determinazione confidenza e di fare tutto il possibile nel momento in cui tutto il possibile non serve pensare che è una maturazione del karma che è imprescindibile la cui esperienza è imprescindibile se crediamo in Dio pensiamo ci affidiamo a Dio c'è una domanda da Tensin Tzomo a Toronto come affrontiamo la nostra vita quando 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 siamo sempre a contatto con delle condizioni che portano alla morte per esempio io sono un fisioterapista lavoro con dei pazienti con delle malattie che a volte questi pazienti perdono la motivazione non hanno più speranza come posso fare per cui come vi ho detto prima la cosa importante anche per l'ammalato anche essere malato avere una forte confidenza e pace mentale per affrontare la malattia per cui questi da parte nostra per esempio tu che lavori con loro più questi esseri soffrono diventano ancora più importanti oggetti della nostra compassione del buon cuore per cui parla loro il più possibile per non farli scoraggiare e in più noi siamo anche buddhisti vi ho detto è di beneficio per il covid recitare il mantra di Tara lo conosci il mantra di Tara lo conosci questo mantra se reciti questo mantra io tutte le mattine recito molti omani e mantra di Tara pensando a essere di beneficio al mondo in modo che possa terminare la pandemia al più presto anche omani siete infermieri e medici recitate il più possibile questo mantra e se vedete che il vostro paziente ha fede e rispetto insegnate anche a loro a recitare il mantra per cui di sicuro non danneggia omtare tu tari tu re so omtare tu tari tu re so per cui non non richiede troppo apprendimento basta recitarlo solamente recitarlo è di beneficio per cui voi siete tibetani e pensate su santità per il beneficio di questi malati recita il mantra di Tara per cui anche io per cui pensate anche voi di recitarlo per essere di beneficio allora uno studente di medicina da San Francisco allora in lo stato del mondo con divisioni razziali problemi climatici problemi della pandemia la responsabilità delle generazioni giovani qual è la responsabilità maggiore di noi giovani per fare una società migliore per cui come tutti i consigli che vi ho dato fino adesso anche per la pandemia eccetera poi da 40-50 anni a questa parte il clima è cambiato è cambiato drammaticamente e il calore il riscaldamento globale è aumentato tantissimo per cui gradualmente anche lo stato del Tibet dell'ambiente del Tibet diventerà come l'Afghanistan in cui tutti i corsi d'acqua sono asciugati e la flora e la fauna si estingueranno per cui questo è il momento del mondo adesso per cui c'è un momento in cui il mondo si forma il mondo va avanti il mondo si distrugge per cui questo è una questo è il modo in cui le galassie degli universi funzionano prima si formano poi vanno avanti e poi finiscono questa è la realtà la natura per cui noi siamo un pianeta in infiniti pianeti per cui anche noi anche questa pianeta che è il momento si è già formato è il momento in cui il pianeta sta vivendo e molte di questi cambiamenti climatici hanno a che vedere con la trasformazione naturale per cui noi come vi ho spiegato prima come persone siamo una disegnazione sul continuo mentale che continua ad andare e continua ad essere rinasceremo in altri in altri mondi in altri universi una volta che che questo mondo è Per cui, come questo mondo ce ne sono infiniti e noi continueremo ad andare avanti con la nascita, malattia, vecchiaia, morte. Per cui, in ogni caso, dobbiamo fare il possibile per proteggere l'ambiente. A un certo punto si distruggerà e questo arrivino naturalmente. Per cui, così come è venuto il momento della formazione, il momento in cui il mondo rimane, il momento in cui si distrugge, il momento in cui il mondo non esiste più, queste sono solo, fanno parte della realtà e della natura. Così come noi nasciamo e poi moriamo, così pure tutti gli universi, le galassie. C'è un momento in cui non ci sono, in cui si formano, in cui ci sono, in cui si distruggono e non ci sono più. Questa è la natura stessa. E anche se non ci sarà più il mondo, questo mondo, la terra continuerà a rinascere in altri posti. Per esempio, noi che siamo buddhisti, diciamo, possiamo in tutte le vite future essere sempre inseparabili dall'ama perfetto, completando gli stadi e sentieri posti del nostro Stadi Vajaradara, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Per cui vita in vita. Noi pensiamo molto lungimirante, di vita in vita. Anche se questo mondo non esisterà più, anche il buddismo rimane in altri posti. Per cui noi dobbiamo pensare di... per cui non c'è bisogno di preoccuparsi. Cosa succede se il mondo non esiste più? Odio mio, tutto sarà distrutto? No, questo è un modo... più pensiamo in un modo claustrofobico, più anche un piccolo problema diventa un problema insuperabile. Capito? Poi? Grazie, abbiamo finito con le domande. Sei stato gentilissimo. Grazie. Come vi ho detto prima, noi tibetani, dovunque siamo, dovunque viviamo, il nostro nome che siamo tibetani non ce lo debichiamo, il nostro corpo stesso viene dai nostri genitori, così pure la nostra cultura da Sonsengambo e Trisondense ci fa diventare, noi siamo, apparteniamo a quel popolo e abbiamo una lingua molto speciale, una cultura molto speciale, per cui incontratevi voi nella vostra comunità anche a livello virtuale, per trovare modi per mantenere e propagare la filosofia, la cultura tibetana in modo che rimanga in questo mondo, ok? Per cui tutti voi agite bene, mi raccomando, non scoraggiatevi, siate contenti. e poi, per cui noi tibetani, anche in America, siamo, a differenza di tutti gli altri, abbiamo una qualità di pace mentale più evidente, per cui dobbiamo diventare, io spero che voi diventiate come esempio per gli altri americani, a New York, in altri posti, in occidente, anche in Svizzera, molti dei miei conoscenti lodano i tibetani, molti me lo dicono, per cui noi sempre dobbiamo portare avanti un comportamento di beneficio e anche voi fate così, Tashi Dele, grazie.